Ciao a tutti, sono Shalita Cecamore, ho 12 anni e mezzo e sono alta un metro e 52 centimetri. Vivo a Pescara, ma ho domicilio a Roma e Napoli. Studio recitazione da quando avevo 5 anni ed è la mia più grande passione e dai 7 sto studiando recitazione cinematografica a Roma. Mi piace molto conoscere le lingue e studiarle. Di fatti, lo sto studiando e studio l'inglese e lo parlo bene perché lo studio da quando avevo 5 anni e in più parlo e studio anche il francese e lo spagnolo. Mi piace molto viaggiare perché sono una persona curiosa e attiva e anche conoscere il mondo, le varie tradizioni e la popolazione della nazionalità che sto visitando in quel periodo di vacanza. Sono una persona energica che ama molto fare attività fisica. Infatti mi piace molto praticare degli sport. Sto praticando in questo periodo il SAP perché mi piace molto il mare ed è la mia località preferita dove trascorrere le vacanze estive. Sono veramente emozionata di farlo anche durante l'inverno perché è veramente un posto speciale per me. Sto praticando il tennis perché mi piace molto come sport e me ne sono appassionata qualche anno fa in un campus in montagna che era proprio sulle varie discipline sportive. Questi sono i miei profili. Queste sono le mie mani. A presto!